Salve, sono Fabrizio di Extra Sound, vi ringrazio per seguire il nostro canale e sono felice di presentarvi i prodotti che esponiamo nelle nostre sale i-fi. Oggi vi illustro una coppia di stand per diffusori che ho realizzato io nel laboratorio che ho di là di Falegnameria, è il mio posto preferito. Sono degli stand che ho diciamo tra virgolette copiato, anzi senza tra virgolette le ho copiati, per i diffusori della KEF LS52 Wireless e LS50 Meta. La stessa KEF a catalogo ha una coppia di diffusori per questi due, scusate, ha una coppia di stand per questi due diffusori. Li ho realizzati in legno, a differenza di KEF che li fa in metallo. Ho utilizzato del faggio massello e chiaramente ho aumentato molto gli spessori rispetto agli stand in metallo. Sono, per quanto riguarda la base e il piano sopra dove appoggia il diffusore, uno spessore di 4 centimetri, mentre il corpo che regge il tutto, se non ricordo male, dovrebbe essere di 7 centimetri, esattamente. Ora, visto che sono qui, vi do le dimensioni totali, perché abbiamo un'altezza, compresi i piedini, di 64 centimetri circa. La base sottostante ha una misura di 22 e mezzo, punto più largo, perché è un posto andato davanti, per 31, mentre la base d'appoggio è larga, 15 e 4 per 19. Potreste dire un po' piccolina, però, come vedete dai fori che ci sono nella parte superiore, sono sono stati realizzati per poterli fissare ai diffusori. Ci sono sei fori, perché i fori della dell'LS50 Meta e dell'LS50 Wireless sono differenti, hanno delle distanze diverse, mantengono la stessa larghezza e i due davanti sono uguali, mentre lì dietro l'LS50 Meta è un pochettino più profonda rispetto all'LS50 Wireless. Oltre a questo, nella parte posteriore dello stand, ho creato un'asola dove si possono inserire i cavi che usciranno nella parte sottostante dello stand, in questo foro centrale, come vedete. Bene, ora, visto che ho girato lo stand, vi faccio vedere anche i piedini. Sono fissati con delle viti a legno e nella confezione ci sono due tipi di piedini, questi che vedete, che magari possono essere utilizzati, come nel nostro caso, sulla moquette oppure anche sulla ceramica, andando a porgli, se volete, e sono sempre a corredo, i feltrini, ok? Vi adesivi. Togliendo invece questi piedini si possono andare ad applicare gli spike, ok? Quindi sempre nella confezione trovate lo spike, la punta, quindi andate ad inserire la vostra punta e sempre a corredo ci sono i sottopunti. Vi faccio vedere qui nella S50 Meta che vedete ci sono le sottopunte, ok? Sempre a corredo. Bene, come potete vedere, ve la giro, il cavo inserito nella sua asola fa di questo, quindi collegamento al diffusore, il cavo entra dentro l'asola, esce nella parte sottostante, ve lo alzo, ok? Poi col fatto che ci sono i piedini che rimangono alti rispetto al pavimento, il cavo non subisce delle pieghe secche e sta tranquillamente, vedete che si muove addirittura e poi mancano i sottopunti. Esce tranquillamente senza pieghe secche. Ho altra cosa, visto che ce l'ho in mano, vi faccio vedere come sono fissati i diffusori. I diffusori della KEF hanno delle filettature nella parte posteriore, quindi con delle viti a corredo passo M8 con il fissaggio con l'avvitamento, con il sistema Torx e all'interno c'è anche la chiave Torx per poterli fissare, li potete tranquillamente fissare in questo modo. Tra l'altro i diffusori KEF a corredo hanno una specie di piedini biadesivi forati, ha una sorta di rondella di gomma e adesso non so se Matteo riesce, riesce a riprendere. Come vedete tra il diffusore e il piano d'appoggio c'è aria, questo perché ci sono questi piedini che vi dicevo fatti in modo di rondella, sono di gomma e quindi creano questo spazio e tra l'altro aiutano anche per il fissaggio del diffusore. Ok? Riappoggio senza fare danni a terra il nostro stand col diffusore, quindi il diffusore è ben fissato. Adesso il cavo è venuto davanti, ma ripeto, questo va dietro, adesso non è collegato, è quello che è collegato al vostro amplificatore. Stessa cosa per quanto riguarda l'LS50 wireless 2, come vedete anche lei è fissata, ho utilizzato gli altri due fori, vedete, più vicini, mentre invece in quello più lontano ci va l'LS50 a metà. Stessa cosa anche l'LS50 wireless a corredo i piedini biadesivi a modi rondella. Nell'LS50 wireless chiaramente potete sfruttare diverse possibilità di collegamento, quindi come vedete qui abbiamo scusate il fiatone, il cavo LAN, il cavo di collegamento col secondo diffusore, se volete, perché loro possono funzionare anche in maniera wireless, HDMI per collegare la tv, ottico, coassiale, l'AUX eventualmente per collegare qualcosa di analogico, ma l'asola è talmente ampia e anche il foro centrale che ci può passare tutto, ok? Gli stand io li ho volutamente lasciati al naturale, quindi non sono tinti, non sono vernicati, sono faggio, naturale, chiaramente pulito, a piacimento potete tranquillamente volendo tingerli o verniciarli, anche se io preferisco lasciarli al naturale, anche perché nel tempo cambiano anche un pochettino colori come tutti i legni e acquistano quel colore bello vivo e caldo tipico del legno. Direi che a questo punto vi ho detto tutto, vi riassumo la coppia di due stand in legno di faggio, dove all'interno vi sono due tipologie di piedini differenti, quindi un piedino piatto col feltrino e gli spike, le punte, sempre a corredo i quattro bulloni M6 con una chiave a torx per fissarli e basta, nient'altro, diciamo che questo è quanto. Spero che possa essere di vostro gradimento, la possibilità adesso balla perché ho messo uno spike insieme alle altre tre piedini, spero che possa essere di vostro gradimento il fatto di poter avere degli stand in legno invece che il solito metallo. Questo è tutto, alla prossima!